Il segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Annunzio Galantino, ha parlato di Papa Francesco nel corso di un incontro al Teatro Eliseo di Roma e lo ha definito come un Papa rivoluzionario d'oltreoceano che vuole una Chiesa povera e per i poveri. Le definizioni che tendono a mettere etichette, ad esempio il Papa comunista e cose simili, peccano di debolezza mentale, nel senso che si rinuncia a riflettere seriamente, con la testa, su ciò che ha detto e scritto il Papa. Lo ha detto ieri sera Monsignor Annunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana al Teatro Eliseo di Roma, nel corso di Processo al Potere, un ciclo di incontri dedicati alle figure forti della politica, della società, presentati da Lucia Annunziata. Il primo appuntamento era dedicato proprio al Pontefice, un Papa rivoluzionario d'oltreoceano che vuole una Chiesa povera e per i poveri. Monsignor Galantino ha ribadito che nelle parole di Bergoglio vi si trova un umanesimo nuovo che pesca solo ed esclusivamente nel Vangelo. Il Papa non è nemmeno il Pontefice di una religione indifferenziata, ha detto Galantino. Egli annuncia il Dio incarnato in Cristo. Non sopporta per questo chi uccide nel nome di Dio. Il Papa si sta facendo carico di una religione che va nel profondo, guarda ad una prospettiva più bella del peccato, come quando fa incontrare i giovani con Dio, confessandoli in San Pietro. Dio è più grande del tuo peccato, ha detto il Papa ai ragazzi. Non esistono situazioni compromesse per sempre. Dio ti vuole bene. Il Papa, ha ripreso Monsignor Galantino, non mette una pietra tombale sulla mia storia, sulla tua storia. E quando un vescovo dice così, non fa il cristiano. Del resto non dobbiamo fare confusione perché non tutto fa brodo e ogni problema non finisce a tarallucci e vino. Il peccato resta rifiuto di Dio, ma ciò non vuol dire che io, laico, prete, vescovo, non debba cercarti, conoscendo il mio stesso peccato, per camminare insieme, integrare le fragilità, cercare la redenzione e la strada indicata dal Vangelo. E questa è la misericordia.